Finalmente il mio diario! Wow, ma che succede? Ciao, siamo Vissa e Musa e insieme ai nostri amici Lampo e Saetta siamo supereroi della legalità. I nostri superpoteri sono l'amicizia, la solidarietà e la legalità. E insieme agli amici della Polizia di Stato vivremo tante fantastiche avventure. Tra le pagine del diario affronteremo ogni mese un tema diverso, ambiente, sport, amicizia, musica. Troveremo tanti spunti legati all'educazione civica e impareremo a conoscere la Costituzione, senza dimenticare le regole per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. E tutto questo con un aiuto davvero speciale, lo stratopico Geronimo Stilton. Ciao ragazzi! Squid? E tu chi sei? Sono Gea e dal cielo te lo ho gli occhi ben aperti, in difesa della natura. Ah, guarda! Degli uomini stanno scaricando liquidi inquinanti! Presto, bisogna fare qualcosa! Avvisero subito la polizia. Da oggi anche tu sarai un supereroe della legalità!